Atalanta Sassuolo 3 a 0 Pasalic, Coopminers Bakker, altra vittoria, quinta vittoria consecutiva in campionato, sesta in generale se ci mettiamo dentro anche quella di Coppa Italia peraltro una vittoria, cioè l'Atalanta vince 3 a 0 ma l'ho visto a livello di produzione crea 5 expected goals quindi una partita clamorosa contro tre soldi sobravi tutti certo no vabbè comunque a parte il meme del buon tre soldi è chiaro sì sì è chiaro dico una cosa sull'Atalanta perché anzi due cose una non è scontata che il fatto che stia vincendo così tante partite anche con le cosiddette piccole a parte che lo sta dimostrando la Juve in questo mese però in generale comunque avere la forza mentale, la compattezza e la mantenere la barra dritta e riuscire a fare un filotto anche con squadre inferiore a te non è scontato poi l'Atalanta si è dimostrata ha dimostrato di potersela giocare di giocarsela anche con squadre più attrezzate comunque con poi è difficile valutare quanto siano più o meno attrezzate però il discorso è che se valuti gli investimenti sul mercato costo rosa montengaggi bilanci eccetera eccetera c'è bilanci fatturati eccetera eccetera l'Atalanta ha battuto e ha giocato essere giocata alla grande anche con queste squadre qui superiori ma adesso si entra come diciamo scorsa settimana in un periodo da incubo con un mese da incubo per la Dea perché dovrà affrontare Milan, Inter, Bologna, Juve, Fiorentina e Napoli in campionato tutte di fila e in mezzo avrà anche la la partita di Europa League la partita di Coppa Italia poi alla fine con la semifinale alla fine di tutte queste gare qui per cui è un periodo horror da questo punto di vista di scontri diretti che penso che nessuno l'abbia avuto in campionato una situazione così tanto e così continua di scontri diretti se l'Atalanta riesce a uscire a cadere in piedi diciamo dopo questo filotto di partite e allora secondo me la qualificazione in Champions non dico sia certa al 100% però quasi cosa significa cadere in piedi significa che inevitabilmente a qualche punto dovrai perderlo cioè quello è obbligatorio però però se riesci a mantenere quella rotta lì e riesci a mantenere non dico il quarto posto al 100% ma comunque ti mantieni in quelle zone lì punto a punto con non lo so Roma-Lazio che vedo quelle un po' più lo stesso Napoli magari adesso vediamo se si metta una svolta non lo so e allora a quel punto rischi seriamente di lasciare fuori una di quelle che a inizio anno invece magari mettevamo davanti all'Atalanta e sottovalutando come sempre criminalmente l'Atalanta detto questo invece per quanto riguarda la partita la parola al buongiorno lo specifico e e dici un po' vabbè è stata anche in questo caso quando parliamo dell'Atalanta ormai diciamo che l'introduzione è molto simile a è come l'Inter è come l'Inter esatto esattamente entrambe n'era azzurra comunque entrambe n'era azzurra quindi comunque c'è questo filo insomma questa connessione però è veramente una squadra che ormai continua a dare dimostrazioni di forza sembra anche anche poi non solo nella sostanza quindi nei risultati che continua a raccogliere ma anche nella forma quindi nel modo in cui li raccoglie e onestamente sta ricominciando a farci luccicare gli occhi nel modo in cui ci faceva luccicare gli occhi l'Atalanta proprio diciamo nel suo prime gasperiniano quindi con quella con il Papu con Ilicic quella con quelle bocche di fuoco offensive che poi davano quelle imprevedibilità che a sua volta elevava ancora di più poi il sistema appunto dell'allenatore dell'allenatore appunto di Gasperini e è chiaro che contro il Sassuolo i pronostici alla base non erano erano abbastanza fedeli poi a quello che abbiamo visto come dire le aspettative anche è chiaro che poi le partite come dicevi tu comunque bisogna sempre vincerle non è niente scontato anche se anche se magari può essere telefonato sotto alcuni aspettativi però è chiaro l'anno scorso ha fatto molta fatica perdeva tanti punti in casa l'anno scorso faceva benissimo in trasferta e un po' meno bene in casa invece quest'anno quasi non c'è differenza ma lo stadio era già completo l'anno scorso c'era ancora manca un settore comunque manca il settore a destra insomma della telecamera che è l'ultimo che manca comunque erano le due tribune e l'altra curva erano già completi ok ok ma ci siamo quasi anche per l'ultimo diciamo che mancano gli ultimi è quasi pronto quasi pronto sì sì e quindi poi è stata è chiaro che c'è l'immagine poi del definire anche cioè è un po' riduttivo definire comica però il fotogramma del rigore di Pinamonti anzi dei rigori di Pinamonti in quella sfera temporale ridutta cioè talmente ridutta veramente da sembrare poi surreale è chiaro che il Sassuolo poi aveva l'opportunità di rientrare in partita avremmo visto magari un secondo tempo un po' diverso io non sono così convinto però comunque è ai atti sicuramente quel momento della partita è ai atti e deve essere considerato perché comunque poteva poteva cambiare anche un po' diciamo è un altro grande merito di quest'Atalanta comunque cioè il fatto che abbia trovato in Carnesecchi un portiere ha fatto un'altra grande parata Carnesecchi nel primo tempo poco prima poco prima del rigore una super parata su Bairani mi pare non ricordo su chi comunque era difficile molto molto difficile sì e poi ha avuto una forza mentale enorme sul rigore ha parato prima da un lato e poi dall'altro e soprattutto l'ha dovuto riparare non per un errore suo nel senso che non è che aveva messo i piedi fuori dalla linea o davanti ma perché Colasinacch è entrato prima in area e quindi spazzando ha dovuto ripetere è stato un po' ingenioso però sì Carnesecchi per me avrebbe meritato otto come voto diciamo di base volendo metterlo in questi termini perché oltre ai due rigori parati in giro di poco tempo c'è anche il miracolo perché quello è quasi un miracolo fondamentalmente poco poco prima e quindi sono contento per il ragazzo e sono contento anche perché secondo me anche la situazione è cambiata in positivo nel momento in cui diciamo che Gasperini ha anche frenato un po' queste porte girevoli e quindi questa libera alternanza che ecco poi secondo me alla lunga non fa bene ma poi lui l'avrebbe evitato comunque inizio anno cioè lui quando si parlava durante il mercato perché aveva detto che non era una situazione proprio che gli piaceva al 100% poi Carnesecchi ha migliorato soprattutto cioè fuori dai pali o comunque esatto non solo fuori dai pali ma proprio come atteggiamento nel senso lui adesso mi sembra molto più tranquillo nel comandare la difesa e c'è una cosa che forse sottovalutiamo in Gasperini perché abbiamo sempre questa immagine io in primis di persona rude burbera aggressiva che litiga con i giocatori ma lui riesce a far rendere tantissimo i giocatori mentalmente fragili De Ketelare Ilic Carnesecchi sono tutti anche lo stesso Scalbini un po' cioè sono tutti giocatori che in realtà hanno delle insicurezze di base a livello emotivo e mentale molto forti e che lui in realtà riesce a far sparire cioè lui da paradossalmente si scontra molto di più con dei caratteri forti con persone che sanno cosa vogliono come vogliono giocare in un certo modo invece si sono un po' più esatto e diventa quasi una guida per loro che è una cosa molto bella soprattutto rispetto all'immagine che noi ci facciamo di Gasperini si vabbè al di là dei meme diciamo di quello che poi si vede in panchina che è comunque un allenatore molto fumantino però che sapesse lavorare insomma su un certo tipo di personalità meglio che su altre purtroppo in alcuni casi lo insegna diciamo anche un po' la storia degli ultimi anni ha avuto insomma difficoltà anche con figure radicali della sua Atalanta con altri giocatori invece passati sempre un po' in sordina e ha sempre avuto un ottimo rapporto penso a Toloi ad esempio che è sempre stato uno degli uomini di Gasperini in questo momento comunque ha immagini del progetto Atalanta perché è quello comunque fisicamente che riesce a dare meno in difesa però comunque il lavoro fatto da Gasperini noi l'abbiamo detto anche nella serata in cui si parlava dei luoghi insomma degli off diciamo delle un popular opinion sul calcio e io continuo a confermare che Gasperini di gran lunga è la personalità calcistica a livello degli allenatori più impattante e più importante negli ultimi anni non solo dal punto di vista tattico perché è quello che fa tatticamente riesce a non invecchiare mai nonostante la sua Atalanta abbia quasi quasi dieci anni e abbia quasi insomma un'età molto avanzata un cambio di interpreti continuo però sempre lì sul pezzo ma soprattutto il modo di lavorare cioè c'è una mentalità c'è una un fare scuola nel modus operandi di Gasperini che insegna tanto e anche quando un interprete a inizio stagione o lungamente magari non riesce a trovare il suo spazio poi perché lui decide decide i tempi ma le sue scelte sembrano sempre le più sagge a volte si criticava la tornazione vero con la deportiva è un altro discorso a volte si diciamo criticava la tornazione estrema in alcuni ruoli in attacco soprattutto sugli esterni però avete visto Olm quanto tempo ci ha messo per diventare un giocatore tatticamente importante e fondamentale per l'Atalanta all'inizio aveva difficoltà appena capito che Olm era sul pezzo dalla partita contro la Roma a oggi Emil Olm è uno dei giocatori più importanti di questo Atalanta è chiaro che poi devi fare un percorso che ti porta a capire in che modo devi stare in campo poi dopo perché è un gioco non semplice esatto e nemmeno diciamo poco impattante dal punto di vista fisico anzi è anche una questione comunque di avere la capacità di analizzare le partite di guardare forse le partite e di capire che Gasperini non deve farvi vincere il fantacalcio Gasperini deve farvi vincere l'Atalanta cioè io quando leggo Gasperini perché non gioca a Scamacca non gioca a Scamacca perché quegli altri fanno meglio e infatti se vogliamo forse l'unica nota dolente l'unica nota stonata è proprio quella legata a Scamacca e sono irrinunciabili quegli altri in questo momento sì cioè non li togli da lì Miranciuk non lo leghi da lì perché Miranciuk veramente l'arma in questo momento e in tutto questo c'è ancora anche c'è anche Luckman Luckman ancora devi rientrare che voglio dire che anche deve rientrare più in regime anche se poi col Genoa è subito attimbrato però ecco l'unica nota dolente sicuramente in questo momento è quella di Scamacca il tiro non è partito dall'inizio è entrato secondo me un po' svogliato ha avuto anche una grossissima occasione non l'ha sfruttata uno come lui l'igol lì deve segnare non può non segnare quindi ecco diciamo in ottica futura io concordo al cento per cento il discorso che faceva Antonio prima e su Scamacca anche cioè Gasperini io mi auguro che sia ancora più stimolato ora perché è una sfida forse più difficile rispetto anche a quello che potevamo pensare perché onestamente io queste scorse estate immaginavo Atalanta e Fiorentino come due delle squadre ideali per Scamacca nel momento in cui diciamo ci fosse la possibilità di vedergli fare quello step definitivo che poi è importante è importante anche per noi in generale non solo per lui in ottica nazionale perché l'italiano e Gasperini sono due allenatori che potevano poi veramente metterlo nelle condizioni di fare appunto quel salto lì al momento però le cose non stanno andando non stanno andando come si pensava dovessero dovessero andare quindi vediamo quali saranno gli sviluppi tra l'altro discorso legato all'impatto di Gasperini nel calcio italiano lui stesso lo ha detto non so se nell'intervista post partita però ha detto io all'inizio il fatto che io giocassi a tre per me era considerato un limite cioè io ero considerato un provinciale per questo in realtà poi dopo conta il modo in cui tu interpreti chiaramente il sistema e quindi ora ci sono tantissime squadre ma io dico non solo in Italia in Europa che hanno cominciato a giocare in un certo modo secondo me perché hanno subito l'influenza perché l'Atalanta ragazzi è incantato anche in Europa non solo in Italia quindi comunque ci sono accorti ci sono accorti di Gasperini e dell'Atalanta anche al di confini nazionali andate a ritorno all'Atalanta Valencia ce lo ricordiamo tutti però un guai è sottovalutario anche le altre campagne europee della DEA cioè l'Atalanta è una squadra che ha messo in difficoltà anche il Real Madrid quando ha dovuto affrontare il Real Madrid il Manchester City il Liverpool e ragazzi non ce lo dimentichiamo assolutamente ma queste sono le robe classiche di chi parla tanto per parlare cioè i discorsi tipo eh ma con la difesa a tre in Europa non si vince le classiche frasi oppure è che poi sono gli stessi che ti dicono sì per carità tutto bello però Gasperini che ha vinto ma cosa significa questa cosa qui cioè i risultati sono proprio uno dei punti di forza di Gasperini perché i risultati li ottiene se poi pretendi che vinca la Champions con l'Atalanta è un altro discorso no che poi è diverso dal dire che Gasperini con l'Atalanta meriterebbe di vincere qualcosa cioè è diverso dire questo dal dire che ha vinto Gasperini per poterlo esaltare è stupido però è chiaro è chiaro che anche solo una coppita sarebbe a livello simbolico un riconoscimento anche se molto più piccolo e molto minore rispetto a quello che poi lui in realtà ha dato però sai comunque dire di aver vinto qualcosa anche se è un trofeo però anche perché la Coppa Italia l'ha fatto di Coppa Italia ma la Coppa Italia per l'Atalanta è un trofeo comunque dice con tutto il rispetto sarebbe il trofeo a tutti gli effetti quest'anno la rosa ce l'hai per l'Europa League sì però è tosta sono tante però torna torna Noel Bilal torna torna Lukman sarà interessante come li metterà a sistema tutti sono tante proprio una nei becchi e secondo me sul doppio sconto l'Atalanta può dire la sua sì per carità però è un'Europa League cioè non è più l'Europa League di un tempo li stai trovando in Europa anche per una serie di contingenti questa è l'ultima Europa League con le e poi ti trovi in Europa League la capolista della Premier League la capolista della Bundesliga quindi è tosta e devi riuscire a evitare entrambi sì però secondo me sono un po' un po' corti solo in mezzo al campo questo purtroppo è maltra non a casa infatti quest'anno stanno giocando a due fisso mentre gli alterni poteva anche alternare non al centrocampo l'Atalanta quest'anno però a parte a dopo che voglio dire è il giocatore che entra ogni tanto e che viene buttato dentro in caso di emergenza c'è Pasalic che è costretto di fatto ad abbassarsi a giocare nei due mediani quindi voglio dire quando a parte che poi Ederson anche ieri ha fatto una partita ragazzi a un certo punto ha recuperato un pallone con una naturalezza partendo da una condizione di svantaggio rispetto a non ricordo chi fosse a proposito di Salernitana e di Salvezza e di Mercato di Sabatini quella è stata una grande chiamata grandissima chiamata di Sabatini Ederson però è un giocatore in sostanza poi con il Genua l'Atalanta ha vinto poi dopo ha stravinto senza Ederson ci mancherebbe l'Atalanta è una di quelle squadre che può fare bene nel breve termine anche se mancano giocatori importanti è chiaro che poi alla lunga tutte le squadre risentono per forza nell'assenza dei giocatori più importanti che siano più forti più centrali nel sistema però Ederson per dei motivi e Coppiners che io mi auguro che l'amici di Tarantini che l'anno prossimo rimanga ma la vedo difficile mi penso che Coppiners sarà e chi lo prende fa un affare però il discorso è che vendi Coppiners ma sai di essere nelle mani di un club che comunque riuscirà a sostituire lo stesso club che te l'ha preso quindi però sai poi le idee sono fondamentali sostituire Coppiners magari è difficile è impossibile però perché quanto tempo ci hanno messo anche per sostituire gli esterni per carità è vero Olme è arrivato adesso dopo un tot di anni in cui l'Atalanta ha fatto fatica l'anno scorso comunque hanno ceduto quest'estate hanno ceduto Oilund Marinowski e comunque con quei soldi ci hanno preso Scamacca De Chetelare e Del Vilano e Colasinac Colasinac ha preso a zero quindi sì sì Bac perché ha segnato però non so un po' un oggetto misterioso in tutto questo no Bac e quello anche la forza di Gasperini riesce a far segnare chiunque cioè veramente chiunque sì 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 l'unico che manca l'appello è Scalvini Scalvini aveva segnato col Genoa avevano annullato però lui è ancora secco e sì Olme si vedeva sempre il gol prima o poi Olme ha fisso a partita un'occasione un'occasione gramorosa miracolo del portiere miracolo del portiere incredibile poi ha avuto l'intelligenza in mezzo all'aria di servire poi sul secondo gol Cucmene che ha messo al 7 bellissimo 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 e poi possiamo dire Olme che comunque era oggetto cioè voglio dire era conteso da tante squadre che lo volevano anche la Juve anche la Juve possiamo dire che ha fatto la scelta migliore possibile però no lo diciamo adesso in realtà lo confermiamo noi abbiamo cioè sottolineato anche prima che poi esplodesse alla fine vai all'Atalanta per cioè anche anche per diciamo il punto della carriera in cui ti ritrovi non hai cioè è un'occasione che devi sfruttare se vuoi crescere vuoi fare quel salto ma ormai diciamolo è un fattore di andare all'Atalanta in un certo momento della crescita perché è una scelta intelligente che può pagare bene e può lanciarti verso palcoscenici chiaro noi ci auguriamo che l'Atalanta col tempo ma in realtà è quello che ha fatto sempre in questi anni tranne chiaramente dei casi trattenga il più possibile i suoi giocatori di qualità perché è una squadra che può ambire secondo me con la diciamo ripresa dell'entusiasmo in una piazza che almeno le ultime stagioni è sempre stato quello il livello più o meno però comunque aveva diciamo non incantato come la vecchia Atalanta di Gasperini quella insomma del Papu di come diceva prima Gioacchino di Ilici c'è la debuta e Castagne e Gosens però ecco diciamo è una piazza che merita non solo di competere come sempre succede perché poi in Europa è sempre andata così l'Atalanta di Gasperini è sempre stata quella squadra che aveva perso le prime tre partite del girone di Champions League e lo ha poi e lo ha poi passato praticamente senza il favore dei pronostici però ecco con la consapevolezza sempre di lavorare bene e di sostituire i calciatori poi è una squadra che può fare un modello dal punto di vista societario perché ti ha rifatto uno stadio che non era tra i più belli in Italia e ne diventava un piccolo gioiellino ma soprattutto l'Atalanta è la seconda squadra che dopo la Juventus ha fatto la squadra B ha fatto la squadra l'Under 23 quindi un modello con cui far crescere i giocatori in modo anche diciamo concreto perché poi il settore giovanile dell'Atalanta comunque anche diciamo i colori che lavorano per l'acquisto dei giovani o comunque dei giocatori fanno sempre un lavoro pulato cioè ce ne sono tanti di difensori ma anche di giocatori di altri voli lanciati all'Atalanta in questi anni penso a Bastoni ad esempio che aveva giocato anche nell'Atalanta e penso chiaramente ce ne sono veramente tanti sì il discorso comunque ora andando in chiusura è che comunque ho controllato al volissimo effettivamente Bastoni e giovanile dell'Atalanta quindi sì però sì ci sono tantissimi ora stiamo qui ad elencarli Scalvini stesso comunque sì Mancini Rosa Ruggeri eccetera Mancini sì Mancini che magari non sta simpatico però un ottimo difensore poi alcuni fuori dall'Atalanta non sono riusciti vabbè Cristante no Cristante è passato di lì non è sull'Atalanta e vabbè penso sia scuola a Milano non ci impelaghiamo in questa era anche Bettella che è uno che poteva venire fuori che invece poi non è riuscito a sfondare diciamo una cosa velocissima sul Sassuolo Sassuolo secondo me rischia seriamente sì sì io rimango al di là di simpatia antipatia eccetera dei meme sul Sassuolo secondo me rischia seriamente perché inizia a diventare la situazione pesante e continua a ripetere cioè il mio pronostico di un mesetto fa circa o un po' più di un mesetto fa mantengo secondo me vanno in B le tre attuali squadre che sono in retrocessione però ci sono arrivate nel senso mi prendo questo vanto non è che l'ho detto quando girono lì o meglio Salernitana sì ma Cagliari per altri motivi e Sassuolo io diciamo uno tra Sassuolo e Udinese secondo me Udinese poi alla fine ne uscirà fuori perché ha più valori o comunque è in una situazione ha un allenatore migliore forse Sassuolo Dionisi non so ecco mi sembra una situazione difficile anche lui vedremo quanto no ma magari non viene messo in discussione proprio il ruolo diciamo la qualità di Dionisi perché comunque ha fatto bene però diciamo ormai e non dà più nulla a questa squadra è saturo anzi probabilmente di io di più non è l'allenatore giusto con cui combattere una lotta una lotta per la retrocessione cioè per la provenienza in Serie A cioè questa è una cosa da non sottraturare magari Dionisi è un allenatore che se lo prende una squadra di media classifica ti può anche ambire all'Europa però in questo momento al Sassuolo sta avendo difficoltà a gestire delle pressioni di questo tipo che sono diverse dalle pressioni per l'Europa perché lì magari giochi per far bene cioè qui giochi con la pressione che da un punto all'altro di cui trovare tra i tre che vanno giù e poi sarebbe un segnale anche contro la Serie A 18 squadre perché se rischia anche il Sassuolo che in teoria era una squadra che non rischiava mai evidentemente non c'è bisogno di tagliare questo questa la lancio così come cosa finale